10 edizioni di Ray Panettone ma non solo Panettone quest'anno perché abbiamo fortuna giocattoli buongiorno a tutti quest'anno ci siamo anche noi a festeggiare i 10 anni di Ray Panettone noi l'abbiamo sempre seguito come utenti come clienti però quest'anno siete vicini come sede al nostro negozio a uno dei nostri negozi e siccome fortuna è 104 anni a Milano, negozio storico bottega storica di Milano coniugare la tradizione del Panettone con la tradizione del Giocattolo a Milano ci sembrava una bella idea e è piaciuta anche al signor Stanislao ecco quindi infatti abbiamo fatto il palloncino con i due loghi il punch ball che è il nostro simbolo perché noi nasciamo come pallonai nel senso che li facevamo noi questi nel 1800 in Germania poi ci siamo trasferiti a Milano 104 anni fa e abbiamo continuato la tradizione del Giocattolo a Milano insomma quindi e portiamo avanti il brand di Milano perché noi collaboriamo molto con le iniziative del Comune di Milano per Expo per esempio ci siamo sempre dati da fare perché amiamo la nostra città amiamo tutto ciò che diciamo la esalta e esalta l'eccellenza il Panettone è un'eccellenza milanese e quindi ci sembrava giusto essere qua ecco è il nostro posto l'abbiamo visto come uno dei nostri posti vi le faccio tantissimi complimenti e buone feste ciao 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 ciao